Mega Upload Tempo di cyber tsunami, un sisma partito dalla chiusura di Mega Upload, sito di file sharing, per violazione dei diritti d'autore. Il terremoto ha generato un maremoto virtuale in cui sono rimasti travolti i siti dell'FBI, del Dipartimento Americano della Giustizia e della Universal Music, che si sono trovati bloccati nel giro di un quarto d'ora. E' la risposta di Anonymous, il collettivo di hacker, che ha rivendicato gli attacchi e afferma di preparare altre rappresaglie. Tutto è partito dall'arresto in Nuova Zelanda di quattro dirigenti del gruppo Mega Upload, fra cui il fondatore è un tedesco di 37 anni, noto come Kim.com, al secolo Kim Schmitz. Sono stati arrestati sulla base di mandati relativi alla violazione del copyright negli Stati Uniti, riciclaggio e racket. La polizia neozelandese, su richiesta dell'FBI, ha perquisito a Oakland la Dotcom Mansion, la villa di Kim.com, ha sequestrato diverse auto di lusso e bloccato un conto da quasi 7 milioni di euro. La giustizia USA dal canto suo ha sequestrato beni per 40 milioni di euro e lanciato azioni legali contro altri tre responsabili del sito. Per la legge americana, la galassia Mega Upload non ha nulla di illegale. I siti che ospitano dati sono responsabili della presenza di contenuti illegali, solo se non danno seguito alle richieste di rimozione che ricevono. Ma secondo la polizia federale, la società avrebbe incoraggiato la pirateria fin dall'inizio, nel 2005. In particolare avrebbe incitato gli internauti, versando denaro ai più attivi, fra coloro che caricavano contenuti sui loro siti. In sette anni Mega Upload avrebbe generato profitti per 135 milioni di euro. Secondo la giustizia USA, questo si tradurrebbe in 400 milioni di euro di perdite per i titolari dei diritti d'autore. Lo tsunami del web avviene in pieno terremoto virtuale per due progetti di legge antipiraterie in discussione negli Stati Uniti. Mercoledì a New York centinaia di manifestanti hanno denunciato una volontà di censura. Il voto del congresso previsto per martedì è stato rinviato. I dirigenti di Mega Upload rischiano più di 20 anni di carcere, intanto gli utenti sono già corsi ai ripari. Rapid Share, Media Fire, Hot Vile. Morto un dot com se ne fa un altro.